Ciao ragazzi, sono in fase di preparazione dei bagagli, sto ultimando le valigie perché domani finalmente parto c'è un caldo che è una cosa soffocante, il più caldo più forte degli ultimi 30 anni una cosa del genere, insomma che hanno chiamato caronte ora adesso si divertono a dargli questi nomini le volevo brevemente, spero brevemente, farvi vedere un pochino delle cose che mi porto in vacanza che sono indispensabili, ho dimenticato la palette ma vabbè e vabbè, gli scherzi trucco e un po' di pennelli basilari questo è un po' di fardo, una sfumatura, uno da ombretto, uno grosso, uno per l'incavo e pennellino per l'eyeliner ho fatto una cosa basilare diciamo, correttore con le dita poi ho preso, sono in ordine sparso come mi capitano in mano allora, dicevo, la crema per i piedi, quella che uso sempre che mi trovo bene quella notturna con l'olio di jojoba poi vabbè, la crema per le mani questa ho la glicerina mani e unghie poi, sempre per le mani, tanto per rimanere in tema per le mani l'olio per le cuticole questo è quello della Crystal Nice con i frutti tutti i frutti che è molto bravo è molto estivo poi, sempre per rimanere in tema unghie un aggegino del quale non posso fare a meno di stare dalla quale non posso fare a meno di stare lontana è il mio spingicuticole questo è sempre della Crystal Nice io ho le cuticole veramente mi crescono a velocità della luce dopo una settimana che le ho sistemate mi sono ricresciute e quindi sento la necessità di avere il mio spingipelli non riesco proprio a stare senza se sto via più di due giorni me lo devo portare siamo diventati un tutt'uno io e lui poi direi che per le mani ho detto tutto vabbè forbicine pinzettine per i peli col mascara waterproof se io ci avessi voglia di andare in spiaggia col mascara non sono mai andata in spiaggia col mascara proprio una cosa che non mi trucco neanche mi fa caldo, mi sento appiccicoso e fastidioso non lo sopporto proprio quindi niente lo struccante questo bifasico un pochettino l'ho messo qui dentro mascara normale una spugnetta per il fondotinta perché comunque la sera esco a mangiare fuori quindi magari un po' di trucco me lo do un po' di glossini anche per andare a venire dalla staggia in giro un rossetto che ho preso per andare in spiaggia che trovo che sia per me il massimo per andare in spiaggia questo perfect kiss che ha una linea di rossetti che io adoro semplice proprio li adoro il caress in coral che è quello che io ho non so se scrive è questo qua rimane molto trasparente comunque sul blog ci sono le foto e secondo me è proprio il rossetto da spiaggia per eccellenza questo colore qua mi piace tantissimo qua cosa mi sono portata vabbè il tonico che ho messo dentro questo continuo di nuovo vecchio perché è piccolino un rossetto rosso per la sera ad estate adoro il perfect kiss no il perfect kiss il red kiss questo della linea my star seduction secondo me è rosso estivo adatto anche la mattite il correttore questo di Kiko questo mascara per le sopracciglia che ormai non ce neanche più sta chiedendo perdono il blush che utilizzo in questo periodo questo ancora è un campioncino di quelli piccoli così mi porto il piccolo e non porto il grosso il mio blush uno dei miei blush preferiti è Origami della collezione Japan Style una roba del genere della Neve Makeup questo nuovo sempre della Neve Cosmetic che ho chiesto un campioncino omaggio ormai li chiedo in omaggio come qualcuno mi aveva consigliato di fare quando mi interessa qualcosa lo chiedo e solitamente me lo spediscono sempre ho preso questo Boudoir che è un lillino chiaro chiaro dai riflessi proprio fucsia non mi piace come fard mi avevano detto che era bello ma a me non piace però trovo che sotto sotto questa faccia ha un bel effetto luminoso anche dato semplicemente come illuminante mi piace molto come illuminante quindi me lo sono portato quello che rimane della mia matita gold la golden brown la matita che mi è in assoluto piaciuta di più di Avon subito dopo la super shock ovviamente porto dietro una matitina fucsia residuato bellico dell'alena rumenstein ancora un moncherino della matita quella per sopracciglia ce n'ho una nuova poi sono tristemente finite mi sono tenuta il moncherino giusto per portarmelo in vacanza qualche campioncino di rossetto il make out red il bare smote sempre della perfect kiss ho preso i rossetti grossi perché mi sono piaciuti tantissimo questi colori ma visto che ho i campioncini non vedo la necessità di riempirmi il beauty delle vacanze e poi questo non mi ricordo più come si chiama vabbè questa linea qua l'apricot glamour che è un'albicocca che mi piace tantissimo infatti vedete che non ce n'è quasi più poi sempre come trucco mi sono portata perché ormai vado su i trucchi naturali ho preso questa della zoeva che è già da un po' che avevo che aveva regalato al mio marito per un anniversario perché sapeva che mi piaceva io veramente volevo quella opacalum ho preso quella lucida ma devo dire che è meravigliosa meno male che ha sbagliato perché mi piace cento volte di più la nude shimmer sono bellissime poi ultima cosa che mi mi porto di trucco sono fondotinta questi i magics siccome non sono sicura su che colore avrò ho preso il creme natural natural beige e medium beige così c'ho tutto e poi un campioncino anche due di trattamento per i capelli quando lavo i capelli da proteggerli un attimino questo 3d e tanti 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 campioncini di avun tipo questo è detergente solution radiance detergente fresh pur detergente detergente e detergente tanto per poi ho preso un po' di questi detergenti perché almeno sono un po' più freschi un po' più stil mi tolgono non mi devo portare dietro anche la cosa della crema poi ho preso questi della yuki mineral 2 da giorno e una da notte anche se credo che sinceramente quella da giorno non credo di utilizzarla perché ho preso la protezione 50 viso anti età quindi credo che userò quello questo non so perché c'è finito anche questi sono rimanenze da notti questa è a zaffiro e questa argento io non amo le creme in gel però in effetti ad estate sono più fresche però ho preso anche una cremina normale per ogni evenienza una così e una così e poi campioncini della rejuvenate giorno e notte con torno con torno occhi giusto da avere un po' di di cose da portarmi da portarmi dietro ah una spugnetta per il fondotinta praticamente quasi da buttare giusto per usare una volta e cacciarla via e l'aggeggino per i puntini neri un'altra cosa che mi sono dimenticata che ora mi è venuto in mente e la prendo subito è una maschera e il trattamento quello per i per i per i i brufoli perché quando finisco le vacanze che sono in campagna sempre 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 io torno giù che ho un bubone grosso così qua nel mento ma proprio una cosa enorme l'anno scorso non sapevo come fare per bruciarmi questo per fare qualcosa questo brufolone orribile che non riusciva a scoppiare era rossissimo mi faceva malissimo e il rimedio di emergenza se vi dovesse succedere ha avuto l'illuminazione e mi è venuto in mente che si usa il dentifricio voi mettete un po' di dentifricio sul brufolone lo lasciate seccare lo lasciate anche lì un'oretta quando mi guardate la televisione la sera lì domani mattina il brufolo è maturo e lo potete non si dovrebbe fare ma lo potete schiacciare per cui quest'anno credo che mi porterò in vacanza anche una maschera per i brufoli è un rimedio di emergenza altra cosa che mi stavo dimenticando che mi porto sempre sono le acque profumate per il corpo queste non ci sono più da un paio d'anni ma io ne ho ancora e le adoro il Bali Bliss che sa di frutto della passione e il Titan a cocco che sono proprio i miei preferiti mentre per la sera mi porto dei campioncini di Hypnotic Poison il mio profumo preferito e vi dicevo la crema per il viso da giorno io ho preso questo ah no sensitive non ho preso sì anti età crema da giorno crema protezione 50 anti età avun per il viso utilizzerò questa mentre nel corpo ho preso la 30 sono bianca cadaverica non ho intenzione di bruciarmi direi che ho detto tutto vabbè i soliti champini che mi porto questo è quello della linea naturalis mango e ginger che lascia capare i morbidissimi e da usare al mare secondo me è il migliore e poi ho preso il nuovo bagnoschiuma quello al limone citronella uva eccetera eccetera che è questo qua che non solo sembra il liquido dei piatti ma l'odore è anche quello mi ricorda proprio il liquido dei piatti mi sembra di lavarmi con il liquido dei piatti però è molto rinfrescante finito questo sinceramente non so se se ne prenderò un altro perché non è che mi ha entusiasmato questo profumo vi dico mi sembra di lavarmi con il liquido dei piatti ma ormai ce ce lo facciamo poi di buono anche è infrescante poi vi parlerò quando torno dalle vacanze vi parlerò di tutti i prodotti nuovi avun che ho provato testato e usato e direi che questo è tutto vi auguro buone vacanze ripasatevi divertitevi rilassatevi e speriamo di tornare a settembre belli pronti i carichi per un nuovo anno ciao ragazzi grazie a tutti